Ciao ragazzi, c'è con ibanci, c'è con ibanci, c'è con Ibanci 5. Raga andiamo avanti con la storia? no io adesso ando avanti perché siamo da più di vinti episodi in questa parte con Ahuka e mi sembra abbastanza sinceramente. Per cui con Saijima siamo stati un attimo controllo dal... dal alalalalala... Beh anche con Saijima una ventina di episodi quindi è sempre quella la grandezza delle parti sinceramente. Allora io voglio muovere degli item Voglio muovere questo, questo, questo 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 tutta roba Sì vabbè ma Anche l'arma qui non mi serve Questo qua via Ok perché se no Non si combina niente Cioè l'arroca non servono queste cose Allora posso dormire? Sì E comunque probabilmente per fare Per avere più I climax hit Bisogna andare da fare Il coso Il training, meglio che vado a sacca talent Prendere un taxi Ok Abbiamo i medikit? Sì La cosa che posso prendere allora un attimo Beh andato facciamo questo qua Siamo super mega indietro Ah ok vabbè Siamo super mega Ho tirato su tutta la roba del tech E perché è la roba più importante Sinceramente secondo me Fortuna che siamo davanti al taxi Proprio davanti Dai Se posso muormi? Ah Ok Flying taxi No no vabbè andiamo avanti Usaka talent Ci dovremmo picchiare sicuro Sicuro perché sennò non è jakuza Ma ma guarda Scommetto guarda I miei ucchiali Sapete che vi dico Adesso faccio il video così Adesso faccio il video così Io mi auto invito È troppo così Assolutamente ti fanno entrare Ah comunque Non ha rifiutato però Vabbè raga comunque Già è scuro C'è una luce di merda Non è che metto Gli ucchiali da sole Tu Tu Rimettiamo gli ucchiali Quelli da computer E che cacchio sei tu Non ti ho mai visto in vita mia Eh sì Però Cioè non è che mi manda affanculo Cioè si parla Strano Ma La chiamasì Si si faranno le mani spesso Sì, 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 sì. Ah non sono prestati i soldi? Non è vero che non mi sono capito che sono rimi. Pagliore che si sono un'occhezza. È stato un'occhezza. Nelle c'è un'occhezza di scendere. C'è un'occhezza? C'è un'occhezza che la c'è un'occhezza che la c'è, ma la c'è una persona che si è contendendita con lei. Non so se te lo dice anche Ti credo perché non sei stato tu Sei tu il grande cappocchia Mi dai via le tue visita ma sei stronzo Mi dai uno segno per farmi star zitto Besso di merda Uno segno per farmi star zitto Ma sei stato tu Ma sei stato tu brutto bastardo Ma Beh è meglio prendere i suoi e andare via Però comunque lo dico in giro Ma sei stato tu brutto bastardo Che discorso ovvio Non è possibile che si risolvi in maniera pacifica No non è possibile No E mo Eh se cazzo è il grande capo Non mi dirà niente Troverò chita Giusto Ma tu che cazzo sei Ma tutti che fanno i misteriosi Sì Ma chiama non parlare da solo Per favore E poi è abbastanza inquietante Ma che casino Che casino Speriamo che coppe Speriamo che i livelli siano buoni Sinceramente Fa bene Fa bene Fa bene Fa bene proprio Sì 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 Tanto Mai Che canzone devo fare Cioè O se la devo fare Vedete C'è quella Delle idol hit Non so Mi devo informare Su serio Però mi sa che questa canzone è nuova Mi sa È nuova Misteri È nuova Non so Miρέ Rider Di Mi Non lo dico niente perché mi devo concentrare, dopo faccio i commenti Mi trovo in occhio, vai Tifani ah ok Ma vaffanculo sei da tuverli Però non ho saputo dove mettere l'hit in questa canzone qua È troppo lenta 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 Va bene ogni volta devono entrare Ma secondo me Park non è morta Dai la smettiamo La gente non è morta off skin su Yakuza Beh in effetti c'è un bel uomo Dottunimi che rientriamo da Akiyama Ah ok si fa la Princess League ma ok Va bene un attimo Sì comunque per avere l'idolite sarebbe fare il training però noi siamo fighi e non lo facciamo senza Allora no Street League ma sono un idiota Lo facciamo senza Facciamo con solo hit solo perché sti cazzi Comunque bisognerà farlo Comunque bisognerà farlo secondo me cioè è importante farlo Ok ma cosa c'è? Ok ma cosa c'è? Ho staccato la USB Ho staccato la USB Un attimo devo mettere il telefono sotto carica Eh Vaffanculo Non riesco Non riesco a metterla USB è troppo difficile Allora diamo una salvata Che non si sa mai che c'è qualcosa L'irreparabile Salva qui Vai qua Schedule Schedule proprio Schedule Sì 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 Allora Final round Yes Normal e easy Easy Vediamo se riesco a mettere a posto sta cosa Sì 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 L'ho fatta anche l'idea Perfetto Ma cari dove è finito tutto questo? Sparita Hai 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 Haruka qualcosa di più di hai Perfavore Se no Dai qual sarà il brutture stavolta Haha Scemo chi legge E quindi? Mamma mia che sto 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 stronze Scemo chi Scemo chi Mamma mia che sto 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 stando Non c'è Anche non Non c'è Prendra Si Non c'è Ma Ma C'è Ma C'è L'ho C'è Non c'è Mi sono scoperto! Sì, non è vero, è solo una strada. Dicetevi. Che cosa? Avete rotto il c***o? Non lo ha fatto. Ma... Se lo dire, solo per te, imparare il Tiger Drop. Che cosa? Non è vero? Ora secondo è un video con gli ucchiai da sole lo faccio Tutto il video con gli ucchiai da sole E' un video con gli ucchiai da sole E' un video con gli ucchiai da sole Ma... ma... Vai Non credo neanche si può sapere sta roba C'è di fare proprio schifo di fare Ma si nel dubbio ho salvato facciamo un save scam Vediamo come l'hanno conciata stavolta Chissà come è stata conciata stavolta Ah no, quello è normale, ok Ma è diverso ancora Ma è diverso dal primo mi sa E' un altro vestito ancora Ma da che? Ma da che? Chi è che rompe il coglione adesso? Ah è un tizio Senta uomo prende una maglietta nuova C'ha la macchia qui Senta uomo prende una maglietta nuova c'ha la macchia qui Vuoi salvare? Beh perché prima scusa Mamma mia Bevo Ma se non è mai praticamente andata a scuola Ma se non è mai praticamente andata a scuola Allora mi chiedo una cosa Che cazzo ci state andato a fare A fare l'idolo E' una merda Non lo sa neanche lei Ma al solito No No, no, fine gioco viene basta Come si o no? Come si o no? Non mi aspettavo questa cosa E' si Che cazzo stiamo facendo qui? Ce che stiamo facendo qua? Si o no? Non è in due finali ci stanno Mamma mia Questa non me l'aspettavo però Del si o no Mi chiamé Mi chiamé Si A massimo Chiudo malissimo Riapro il salvataggio Non c'è problema Ma se diceva no cosa succedeva Furtro per che lo salvataggio Dai, dai Dolce Camilla Presentami La puntata della Princess League E dopo ci scipicchia con Akiyama E comunque la canzone lì è la mia meno preferita Sì, è la più deboletta delle tre secondo me Sì, appunto Ma scusa, ma io vinto i primi due C'erano meglio di tre Comunque è Dolce Kamian, non è il miglior personaggio fino a là Di questa parte Alla parte devi farmi una posa figlia stavolta no salutare il pubblico tipo la regina devi salutare il pubblico fatto bene però si avrà pensato una posa spero se no va bene dai va bene approvo approvo almeno c'è qualcosa almeno vabbè per dover avere un vantaggio però in serio mi ha detto ah 5-7 c'è il vantaggio ma vediamo che vantaggio si ho il vantaggio però parto di vantaggio gas però io direi usare l'hit alla fine però l'hanno usato tutto il vantaggio e lo uso quando lo uso allora a questo punto ma no non si può distrarre per mezzo secondo dai dai ho sbagliato che palle che palle è una ne ho sbagliato vabbè non si può fare niente 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 Dai, ho vinto io, non rompete le palle Dai, ho vinto io, palese, grosso come una casa Vediamo com'è quello lì, poi Ma non ho fatto neanche vedere Vabbè, ho vinto io, sti cazzi Grazie, grazie, troppo utili Non ho fatto neanche vedere uno slider Fatti vedere uno slider, no? Aruka, c'è il cazzo che è possibile Come ti senti? Ehm, ok Non so cosa dire Non so cosa dire Ehm, yes Si mette a piangere adesso Cosa devo fare? Raga, ho fatto il culo queste Dai, prendi il microfono Aruka 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 Ma Non piavi un infarto Madonna che ansia Se sono io ansia per lei a parlare di questa roba, non riuscirei mai a farne una bella Comunque Ma Kamia, dove hai... Il microfono come funziona? È wireless È wireless il microfono Il mio pensiero... Ha usato? Fini del capitolo? O si passa diretto da Akiyama a picchiare? Ah no ok Oh adesso questa è la rincherazione di tu Mi so se c'è... Se c'è Aruga nei titoli di Kozali Secondo me si Oddio ci sono i produttori ci sono Adesso devo sentire queste che rossicano però Ho vinto Eh si è Devo saltare fuori i park Grande Aruga Cos'è successo? Cos'è questa musical ice attorno ai Tipo quando hai vinto un... Una... Un caso Adesso Siete stati due stronze com'è? E quindi? E quindi? Ma io voglio solo dire GG, cioè non lo so potassi Ok, GG Addirittura incredibile Mi ha fatto una sessione di pratica con le ragazze nuove e basta Prove Però potevate non comportarvi da stronze per tutto il tempo, cioè Cioè Ma non potete andare in questo mondo, ma è il tuo miglior? Ma è il tuo miglior? Ma anche noi abbiamo un miglior miglior, quindi Non c'è una storia, ma non c'è un po' di orgoglioso. Non c'è un po' di orgoglioso. Ma vi siete odiata a vicenda fino a 5 minuti fa? Vabbè, lui ride incredibile. Allora, ora andiamo. Sì, ancora. Ma è una roba brutta quando succede. Non ci crede che nessuno. Non è vero, non è vero. E' tutta una falsità. E' una facciata. E' un po' di orgoglioso. No, no, succede la merda. Succede la merda. No, no, raga, io non mi fido. No, no, succede, è terribile adesso. Andiamo, facciamo questa. No, no, non succederà mai. Guarda, eh. Ah. Quindi io vorrei parlare di... Ah, mi piace questo salto brutto. Non so chi è il tizio, ma sta aspettando Sky Finance. Ma questi vogliono picchiarsi? Eh, già. Eh, insomma. Allora, io direi che per questo momento di Yawda 5 abbiamo chiuso. Perché mi hai messo l'immaledetto infingardo? Ci sono visto che mi piace. Come tal, ci vediamo. Al prossimo video. Ciao.